abbiamo parlato di poliamore in più forme abbiamo iniziato a introdurre questo tema questa forma relazionale abbiamo cercato di raccontarvi come noi la viviamo come noi la vogliamo impostare come sentiamo sia il nostro modo corretto di viverla oggi vorrei fare un passo in avanti insieme a voi raccontandovi un po come si fa il passo di aprire verso una relazione poliamorosa come si fa insieme a sviluppare questo punto di avvio di una forma nuova di relazione che è poi quella che noi definiamo relazione poliamorosa saremo nel contesto della costellazione poliamorosa capiremo insieme quali sono le premesse e quali sono i passi importanti da fare per arrivare a questo risultato la relazione poliamorosa inizia sempre da un punto di partenza normalmente il punto di partenza è l'individuo ma facciamo dei pezzi ulteriori e andiamo a specificare che quello che noi interessa oggi è il come si fa ad aprire attraverso una relazione già avviata partiamo dal presupposto che abbiamo una relazione di coppia in questo caso che è già avviata e già partita da questo punto di vista abbiamo già una relazione profonda perché questa premessa è fondamentale è fondamentale perché attraverso una relazione profonda noi possiamo mettere il piede giusto nella dimensione poliamorosa se siamo degli individui che rendono conto solo a se stessi nelle relazioni quindi aprono chiudono scegliono quando come va bene ma questo è parte di una categoria di relazioni che noi abbiamo definito single e che non ha a che fare con questo tipo di esperienza l'esperienza del singolo è un'esperienza che ha un suo contesto anche una sua validità una sua una sua efficacia ma non rientra per quanto ci riguarda nel contesto delle relazioni poliamorose come noi le vediamo come come evo amore in quanto nei momenti in cui noi entriamo in relazione con qualcuno l'elemento della scelta l'elemento della libertà l'elemento della valutazione l'elemento del cosa fare o cosa non fare non è più un elemento che parte dal centro di noi stessi e prescinde da tutto il resto ma è un elemento al centro del nostro mondo e di quello delle persone con le quali noi siamo in relazione ecco che da quel momento tutto il contesto della valutazione e di tutte le premesse che servono per fare anche scelte relazionali nuove passa da equilibri diversi da quelli che fino a quel momento avevamo ritenuto essere gli unici equilibri disponibili questo è un elemento molto importante da considerare proprio perché nella maggior parte dei casi quando le persone considerano quello che normalmente viene valutata come la libertà personale nelle relazioni normalmente quello che noi vediamo osserviamo negli scambi che abbiamo con le altre persone è che la persona normalmente si pongono nel io voglio sentirmi libero di poter vivere le relazioni che desidero benissimo va bene non c'è problema ma come ribadisco e ho detto poc'anzi quel tipo di logica è una logica che nella quale tu prescini da tutto il resto cioè tu vieni prima di chiunque altro quello è un tipo di relazione che noi abbiamo definito single ed è un tipo di relazione che non è sulla piattaforma del poliamore per quanto ci riguarda lo ribadisco proprio perché questo è un tema che sovente ci viene portato come ma come io nel momento in cui sono nel poliamore non sono più libero di decidere quello che voglio no non sei più libero di decidere quello che vuoi proprio perché questa libertà diventa una libertà che si deve confrontare con quella degli altri quindi la mia libertà comincia ad avere dei confini determinati dalla libertà che hanno anche le altre persone di vivere emozioni di reagire al nostro agire di mettere premesse o di fare ragionamenti o farci vedere prospettive nelle quale noi magari non siamo in grado di entrare oppure non vogliamo osservare fino in fondo questo è il valore e la preziosità della relazione e anche la responsabilità della relazione la relazione quando questo diventa una relazione profonda porta l'equilibrio delle scelte in un punto centrale che non è più quello di noi stessi non siamo più noi il cardine dell'universo ma questo nostro cardine che seppure in ultima analisi sarà sempre determinato da noi nella scelta finale perché non prescinde mai la responsabilità personale ma nella valutazione di quello che poi si va a fare ci si prende la responsabilità del confronto e dello scambio della relazione un aspetto che credo sia abbastanza importante da considerare prima di fare questo tipo di percorso di apertura è quello di come ci troviamo nella relazione iniziale cioè nella relazione originale nella relazione originale noi dovremmo essere nel punto in cui con il nostro partner riusciamo ad esprimerci riusciamo ad avere una relazione profonda nella quale sentiamo di essere contenuti sentiamo di poter esprimere le nostre parti nel modo più completo possibile e sentiamo di poter essere trasparenti e sinceri senza queste premesse sconsigliamo caldamente di aprire una relazione poliamorosa proprio perché se mancano queste premesse vuol dire che non c'è una buona base di partenza per una relazione poliamorosa ci possono essere i presupposti forse perché questa relazione incompleta ha bisogno di essere sostituita forse perché non ci sono diciamo gli elementi sufficienti per poter stare bene insieme e sperimentare questa profondità che è tanto importante questa profondità è fondamentale proprio perché permette all'altra persona di avere degli ingressi dentro di noi di fiducia nei quali noi permettiamo la persona di portarci se stessa di portarci i suoi limiti ma di portarci anche le considerazioni le cose che vede di noi per poterlo fare abbiamo bisogno di costruire questa fiducia abbiamo bisogno di costruire questa relazione questa profondità senza questi elementi estremamente difficili ed estremamente sconsigliabile avviare un tipo di relazione poliamorosa proprio perché mancherebbero delle basi fondamentali senza questi elementi rischia solo di farsi del male e di portare ad un epilogo poco bello sia quella che è la relazione originale ma anche probabilmente quella nuova proprio perché verrebbe inserita all'interno di un contesto che già di per sé è fratturato non ha non è completo non è adatto a contenere una persona nuova che entra in una dimensione così delicata e importante come quella dell'amore nei momenti in cui noi abbiamo una relazione profonda partiamo da uno che è più facile nel momento in cui noi decidiamo di aprire verso qualcun altro senza sostituire ma aggiungendo a quello che già abbiamo ci sono due ruoli fondamentali che svolgiamo noi che andiamo ad aprire verso altre persone e la persona che in questo caso in relazione con noi la persona che è in relazione con noi è quella che fa lo sforzo più grande perché è quella che deve allargare il suo contenitore e permettere a noi di poter vivere questa dimensione teniamo ben presente che è questa persona che ci permette di vivere il poliamore non quella nuova cioè il fatto che questa persona resti e quindi rimanga lì nel momento in cui noi decidiamo di aprire una nuova esperienza e quindi non ci manda sostanzialmente a farci benedire e ci dice vai pure con l'altra persona che io vado a fare altro ma resta dov'è rimane al suo posto rimane nella condizione di allargare il suo contenitore per far stare questa nuova dimensione affettiva che ne stiamo generando lei è la chiave che ci permette di vivere una dimensione poliamorosa quindi è una persona importante lo sforzo da cose determinato è determinato dal fatto che a livello affettivo sentirà il proprio legame con noi vibrare sentirà tutta una serie di paure di difficoltà di insicurezze che emergeranno e le dovrà comunque gestire proprio per il fatto che ha scelto di restare quindi ha scelto di rimanere connessa questo tipo di passaggio è un passaggio che ogni persona affronte vive in modi differenti quindi ci sono persone che riescono per maturità acquisita per natura per caratteristiche o per vari aspetti misti a gestire meglio questo passaggio quindi a restare comunque aperti a sentire questo movimento questa vibrazione nella pancia nel cuore che li sposta ma non avere particolari ripercussioni in questa direzione ci sono altre persone che ne hanno diciamo una percezione un po più drammatica quindi fanno più fatica a superare questo passaggio seppure di volontà di intento diciamo hanno desiderio e piacere di aiutarci e di sostenerci nell'ingresso in questa dimensione poliamorosa quello che è difficile fare in questi casi è tenere la rotta in questo caso del partner che ha lascia questo spazio nel momento in cui altre parti magari più forti come abbiamo già spiegato quando c'è un fuoco della passione acceso c'è tanta energia c'è tanta forza che ci spinge ci sbatacchia un po in tutte le direzioni è anche possibile che anche se una persona diciamo ci ha dato la sua disponibilità all'apertura questo poi diventi invece una situazione non sostenibile qui parliamo ovviamente di estremi e ci sono tante vie di mezzo quello che sicuramente accade è che c'è una flessione importante nella nostra relazione che in quel momento si sta trasformando proprio perché non sarà più una relazione di coppia ma sarà una relazione che avrà più interazioni dirette ed indirette in quel momento ci saranno tutta una serie di aspetti che emergono qual è il nostro ruolo in questo caso attivo nei momenti in cui andiamo in una nuova direzione beh intanto tutta la parte di condivisione informare la persona per tempo per tempo vuol dire prima l'ideale sarebbe portare la persona nostro partner nostra partner nella direzione di una dimensione poliamorosa condivisa quindi è una cosa che si sceglie di fare insieme al di là che inizi uno o l'altro o insieme quello che è importante è che ci sia una volontà condivisa per arrivare a una volontà condivisa serve un'elaborazione insieme non serve presentare una nuova persona serve fare un'elaborazione insieme che siano un'elaborazione possibilmente impersonale si arriva poi al risultato di comprendere che vogliamo siamo disponibili a sperimentare a provare perché poi non sappiamo l'effetto che ci farà questo tipo di esperienza da questo punto di vista ecco che ci sono le premesse per provare il ruolo attivo diciamo il ruolo della persona che invece apre una nuova relazione quindi se io vado in questa direzione dovrò avere molte attenzioni verso il mio partner originale il partner iniziale proprio perché so che avverranno delle flessioni importanti nella nostra relazione la persona avrà delle difficoltà avrà delle insicurezze che possono essere come dicevamo maggiori o minori in base alle caratteristiche della persona e la sua capacità o conoscenza dell'argomento e quindi possibilità di gestione di questi movimenti intimi che possono accadere quindi ci possono essere anche dei grandi estremi possono essere delle situazioni molto pacate tranquille più rare ci possono essere delle soluzioni molto drammatiche e ci sono tante vie di mezzo che sono la maggior parte dei casi a volte c'è una punta ma poi ci si ripiglia eccetera eccetera il grande ruolo che ha il partner attivo cioè quello che avvia la relazione nuova è quello proprio di essere molto contenitivo molto paziente nell'andare a deviare questa nuova relazione non si deve perdere deve mantenere un'attenzione verso i partner precedente e dall'altra parte riuscire a far percepire che c'è un equilibrio nell'esserci adeguato a quello che poi in quel momento è la situazione non è né anomalo né sbagliato inizialmente anche dare una priorità al partner originale quindi se faccio un esempio per capirci avevamo fino a quel momento stabilito due momenti alla settimana in cui ci si vedeva magari di vederlo in più momenti e non solo quei due momenti stabiliti proprio perché nell'andare a riportare un equilibrio serve mettere più energia così come la relazione nuova sarà importante entro breve tempo far sentire alla persona che sta entrando che non è meno importante ma semplicemente sta iniziando a entrare in una dimensione affettiva nel quale ci sono altre persone che devono anche contenerla e quindi anche lì ci possono essere poi tutta una serie di interazioni che noi normalmente proponiamo che accadano che possono essere anche proprio propedeutiche poi ad avere una costellazione poliamorosa armonica tutto quello che è all'interno di una relazione poliamorosa ha bisogno di una connessione può essere una connessione anche molto leggera ci si può parlare una volta o due ci si può scrivere ogni tanto un messaggio ma far sentire che ci sono degli spazi armonici che c'è un'attenzione che nessuno vuole prevaricare qualcun altro e non delega tutto a quello che poi è il ruolo centrale c'è ruolo che la persona in questo caso il parte rattivo avvia in una nuova dimensione come questa perché perché in questo caso la persona che avvia nuova relazione a un certo punto si trova a un punto in un punto centrale tra la vecchia relazione e la nuova relazione e fa in modo che queste due relazioni siano armoniche tra loro il ruolo di chi è in questo caso in movimento è fondamentale è fondamentale perché ha bisogno sempre di onorare e rispettare tutte le relazioni non può mettere delle priorità su uno sull'altra proprio perché questo diventerebbe disarmonico e anche poco rispettoso dei sentimenti delle altre persone quindi nel nostro modo di aprire una relazione questi sono i passi fondamentali spero che questo video vi sia piaciuto se si mettete un like commentate perché ci è utile a mettere fuoco sugli argomenti che man mano vi porteremo speriamo che tutto quello che vi stiamo portando ti metta sulla frequenza giusta per avviare delle relazioni armoniche e ci vediamo al prossimo video